Asmerf sfogliatella una bomba come dicono a Napoli bravi ragazzi Poi contro l'inverno ci vuole è consigliata come terapia antivirale e antibiotica Se non ti dà che il dorso delle mani godi solo a metà pezzettini d'arancia io ve lo dico a fare l'Italia è bella è bella una tattica del film lo squalo l'unico boccone che si raffagna tutto